ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda saldi saldi a non finire allora a parte questa vi volevo dire che ho fatto una specie di decluttering per quanto riguarda magliette ve lo avevo già forse anticipato in qualche altro video perché molte delle magliette diciamo che io utilizzo questa è una che poi vedrete nei video o già l'avete vista molte magliette io le ho trovate con l'alone sotto le ascelle quindi tipo giallo quelle cose che mi dà fastidio alcune le ho trovate proprio macchiate e quindi io cosa faccio se una magliettina è buona ma mi sta piccola o ha qualche difetto nel senso tipo che non mi sta bene addosso non mi piace più addosso e tutto io li regalo gli do ad altre persone ma se trovo o con i buchi o tutta macchiata di sotto o tipo con le alone sotto le ascelle sinceramente non mi va di darle alle persone perché è giusto che se qualcuno deve indossare qualcosa anche di seconda mano ma deve essere in ottime condizioni io invece quando trovo queste magliettine macchiate o che diciamo sono tutte rovinate li ritaglio gli tolgo tutte le cuciture e le utilizzo per pulire il bagno per fare le finestre oppure gli specchi li utilizzo per la casa e mi ci trovo sinceramente molto molto bene allora iniziamo e ho fatto degli acquisti per prima cosa vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto da stradivarsi c'è una magliettina semplicissima e l'ho presa proprio in un periodo forse che di norma dovremmo tutti avere questa nel cuore ed è questa love con il segno della della pace mi piace tantissimo come magliettina anche come simbolo scusate ovviamente si diventa serie per tutto quello che è successo in questo periodo però non voglio dire niente io sono una mamma perché se dico qualche cosa poi faccio del male e quindi non mi va ho preso una L perché la XL era troppo grande sinceramente ed è costata 5 euro e 99 ed è questa magliettina qui grigia con questa scritta e le maniche sono così poi nella parte di dietro è semplicissima queste sono delle magliettine che io utilizzo con i jeans e mi piace andare da mia mamma oppure anche ci esco volentieri con qualcosa di abbinato e quelle magliette mi piacciono molto poi andiamo avanti e ho preso alcune magliette da Alcolt devo dire che sono molto carine come magliettine ho preso delle cose basic ed è un'altra magliettina un po' più particolare allora queste io le utilizzo tutti i giorni per andare a casa mia mamma vado a prendere il caffè quindi mi serve una magliettina subito veloce e vado e ho preso questa qui ed è una XL di questo grigio chiarissimo molto molto chiaro con la scritta sushi please con il gattino questa la dovrei regalare Leonora Manni che lei adora il sushi questa è costata 4,95 euro e la manichetta è così semplice c'è il gatto stampato e nella porta di dietro è semplicissima queste magliettine anche se voi li vedete grandi per la mia misura sono ottime sia per quanto riguarda la lunghezza del mio busto quindi la mia corporatura questo colore io lo adoro sinceramente mi piace tantissimo e quindi sono molto contenta di averla presa perché mi piace molto questo colore anche su di me come mi sta ed è di questo colore senape questa magliettina è molto molto semplice mi piace una basic una magliettina basic con la manica tagliata ma con la svoltina e mi piace molto anche questo e poi ha una linea drittissima e lunga di questa qua ho preso una L ed è costata 4,95 euro quindi 5 euro poi andiamo avanti e ho preso anche una magliettina verde proprio per abbinarle ai pantaloni molto spesso mi capita di avere un pantalone colorato diciamo con fiori o con disegni e nella parte di sopra ovviamente non si può mettere un diciamo la stessa tonalità oppure gli stessi colori perché poi diventa too much e quindi ho preso delle magliettine un po' più basic queste perché poi se vedete gli altri non sono basic queste però sono colorate quest'altra è nera semplicissima molto più sottile di quella senape che vi ho fatto vedere poco fa e ha la manica normalissima semplice delle magliettine di cotone a manica corta e questo ho preso una L al prezzo di 3,95 euro quindi ottima anche questa poi andiamo avanti e sono stata da Zuiki da Zuiki ho preso alcune magliette che mi sono piaciute e una felpa allora le magliette sono una per quanto riguarda ricordi di infanzia io guardavo spesso non è come adesso che altri tempi che adesso diciamo abbiamo le radio che trasmettono in televisione prima c'era MTV se volevi vedere un gruppo musicale o volevi vedere un concerto volevi vedere la qualunque cosa dovevi guardare MTV quindi fan di MTV io ho preso questa che è molto molto bella music television MTV molto bello e ho preso una L e l'ho pagata 3 euro la manica è tagliata in questa maniera ovviamente bianca ma semplicissima con un disegno diciamo davanti e nella parte di dietro è semplice bianca non ci sono disegni in tutte le magliette che vi faccio vedere nella parte di dietro sono semplicissime un'altra magliettina che mi piace perché è glitterata nella parte di sotto ma delle labbra sarà la mia fissa per le labbra io sono fissata con le labbra chi mi conosce lo sa estetista comunque tutti lo sanno questa è la maglietta bellissimo con le labbra così mi piacciono tantissimo e poi la scritta nella parte di sotto glitterata ed è molto molto bella con la manica tagliata in questa maniera e anche di questa ho preso una L con il prezzo di 4 euro questa è una magliettina è del Rolling Stones quindi è per Paola P questa magliettina è proprio per te Paola per te la magliettina la maglietta è per te Paola ho preso una L perché mi stava bene la L preferisco un po' più comode vedete questa è una L è bella comoda l'ultima magliettina che vi faccio vedere è della Disney e questa l'abbiamo presa uguale con la mia migliore amica perché lei si chiama Michela quindi Mickey è una L l'ho presa a 6 euro ed è questa con Mickey Mouse della Sweet Estate bella molto bella particolare è sempre bianca con le maniche così il cotone diciamo è leggero non è pesante ed è ottima anche questa poi per finire per quanto riguarda la parte di sopra io avevo visto questa felpa siccome è il colore che piace anche alla mia migliore amica quindi questo senape che gli piace tantissimo quindi mi sono affiondata nel prenderla la misura per lei invece per lei non c'era la misura nel senso che c'era una S ma sinceramente vestono molto grandi a lei non piace vestirsi in modo ingombrante e quindi non l'ho presa ma c'era la mia misura l'ho presa e ho presa questa è molto molto bella color senape manica lunga non troppo pesante mi piace tantissimo sia il colletto in questa maniera ed è della Disney del Lion King io ho preso una M perché la L era molto grande quindi non mi piaceva e l'ho pagata 6 euro infatti c'era soltanto la S qua vedete non c'era la XS e quindi ho preso questa nella parte di dietro è semplicissima è questa con i jeans e lo scarponcino che io ce l'ho anche di questo colore sarà bellissima stupenda poi sono stata da Pittarello perché mi servivano delle scarpe allora se avete visto già il video precedente sapete che ho sbagliato il numero della scarpe nel senso che nella scatola c'era un numero poi nella parte di dentro c'era un altro numero quindi sono andata a cambiarle e ho preso la misura giusta e ho preso le mie scarpe che sono queste ve li faccio vedere anche se sono leggermente sozze perché già le ho utilizzate sono questo modellino qua che è quello che io preferisco perché avendo la calza che ho avuto questa è la scarpe la faccio vedere da lontano così non si vede che è sporca comunque è molto comoda a me piace tantissimo perché c'ha la sagoma dentro vedete tutti questi segni che sono una sagoma poi la parte rialzata dietro perché chi ha lo stesso problema mio sa che non devo utilizzare le scarpe basse o la maggior parte tutte dritte quindi ho preso questa che è leggermente il tacchetto e quindi codeste ho preso questo come cambio infatti è il numero 40 vedete perché abbiamo preso questo tre paia di scarpe che ho preso solo io e in più nella carta perché la mia amica ha la carta di Pittarello automaticamente vi fanno altri sconti in base a quante volte andate in cassa se non mi sbaglio comunque queste sono ottime come scarpe mi ci trovo bene quindi ottimo sì vabbè sono cadute poi l'altro paio di scarpe mi ho prese altre due allora ho preso queste dell'in blu sempre modello uguale al prezzo di 15 euro 15 euro sempre il numero 40 la forma della scarpa è sempre uguale perché vi ripeto mi trovo bene con questa forma queste ancora non le ho utilizzate quindi li posso anche toccare e queste sono le scarpe io mi ci trovo bene con queste scarpe posso uscire tranquillamente ve ne faccio vedere una perché mi secca tenerle tutte e due questa a differenza dell'altra è tutta con le pietrine e sono tutte in rilievo hanno la forma così dorata ed è molto carina con questa parte qui bronzo devo dire che mi piace mi piace come tipo di scarpa è molto comoda riesco a camminare posso andare da qualsiasi parte avendo la calza questa è l'unica diciamo alternativa un po' più comoda e estiva che non mi fa diciamo sudare il piede poi l'altro modello che vi faccio vedere l'altro modello è della linea Pittarello direttamente ed è al 20% di sconto infatti costava 20 euro poi c'è stato lo sconto del 20% e come ultima scarpa ho preso questa questa qui sempre lo stesso modellino questa ancora non l'ho utilizzata perché non sono uscita questo è il modellino uguale a quelle bianche che ho utilizzato l'anno scorso e che mi sono fatta proprio tutta la stagione questa qui le sto utilizzando fino all'osso e sono le scarpe più comode che esistono nella faccia della terra e anche queste sono molto molto belle qui c'è la parte ruvida e tutta laminata e poi ci sono tutte qui i fiori è uguale identica a quella dell'anno scorso bianca e nera e questa è nera quindi dipende poi come mi vesto utilizzo le scarpe io le ho prese anche tra virgolette adesso che ci sono gli sconti diciamo siamo quasi a fine stagione perché queste sono scarpe che io utilizzo e devo diciamo l'unica mia possibilità di utilizzarli e quindi li utilizzo molto molto volentieri niente ragazzi questo è tutto per quanto riguarda i saldi di questo periodo spero ovviamente che il mio video vi sia piaciuto che vi sia di credimento ditemi se vi sono piaciute le mie file per le mie magliettine e niente che dirvi sicuramente ci sarà la seconda tranche perché ho preso delle cose ma ce l'ha in macchina la mia migliore amica perché è andata a accompagnare il mio figlio perché si doveva tagliare i capelli comunque non ce l'ho a portata di mano quindi per quanto riguarda questo video è tutto ci sarà la seconda manche che poi non è una seconda manche perché questo sarà il terzo o il quarto video non ci fate caso niente che dirvi ragazzi io vi saluto vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi vanno ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao